In Piazza della Rinascita a Pescara c'è il camper ludoteca Taxi Clown. Vogliamo spiegare a cosa serve questo camper, cosa state facendo qui a Pescara in questi giorni? È una sorta di taxi sanitario, funge appunto da taxi per accompagnare i piccoli pazienti o anche gli anziani o comunque chi ne ha bisogno nei trasporti e i ricoveri fuori sede. È chiaro che ha bisogno di tutti i presidi ospedalieri e quindi è una sorta di autombulanza e chiaramente una cosa è che il bambino sale appunto sull'autombulanza, una cosa che sale su questo fantastico camper pieno di giochi e pieno appunto di divertimenti per cui lui non capisce diciamo che sta facendo una cosa importante ma pensa che sia una gita e quindi ci sono i medici, infermieri, la famiglia, insomma è un bel progetto. Una iniziativa patrocinata anche dalla Polizia di Stato? Patrocinio del Ministero dell'Interno, dalla Polizia di Stato e orgoglioso chiaramente di girare tutta Italia. Siamo stati sul lago di Garda, siamo stati a Lignano Sabbiadoro e appunto arriveremo a Pozzallo giù in Sicilia dove c'è lo sbarco degli immigrati. Questo splendido barboncino è protagonista di questo progetto? Un maltese, lui ha fatto il corso di pet therapy e chiaramente ha tutte le autorizzazioni e le certificazioni per poter entrare nelle strutture. Oggi più che mai c'è bisogno di queste iniziative? Soprattutto in questo periodo post, chiamiamolo post covid, ma io direi ancora durante questa pandemia, ancora in corso abbiamo avuto chiaramente un successo enorme e la polizia appunto quando ci fermava ai posti di blocco faceva il saluto militare, mi faceva venire la pelle d'oca questa cosa perché dicevano dottore lei cura l'anima delle persone per cui può andare, può andare. Abbiamo avuto chiaramente il Green Pass il mese di gennaio, già abbiamo fatto tutte e due le dosi, prima e seconda dose, anzi fra poco dobbiamo fare la terza, visti i tempi. Insomma è stato un anno brutto da un certo punto di vista, per me bellissimo perché abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo avuto veramente tanto successo.